Grazie a tutti. Nell'azienda di Giorgio Rossi che è qui a fianco a me, in località Villa Ripari, per vedere un'esperienza interessante di agricoltura conservativa e anche qualcosa in più. Questo è un mais coltivato su sodo, quindi non ha mai visto l'aratro, non ha mai visto l'arpice, è stato assolcato e seminato. Lo vedete anche voi, è molto bello, molto omogeno, colore costante, piante belle, seminate a metà aprile. Ma sentiamo da titolare dell'azienda Giorgio Rossi una descrizione dell'azienda e cosa ha di particolare questo tipo di coltivazione. Sì Alberto, come dicevi tu, siamo in provincia di Cremona, è un'aziendina di circa 30 ettari, di cui una buona parte è coltivata ancora con metodo tradizionale, e quindi con arratura, preparazione di semina e semina normale tradizionale. E una parte ormai invece da 5 anni abbiamo fatto una sperimentazione per quanto riguarda la subirrigazione. Devo dire che i risultati promettono bene, è un sistema che dà delle soddisfazioni enormi, specialmente col passare degli anni. Tu prima hai parlato di agricoltura conservativa, ma devo dire che noi quando siamo partiti con questa sperimentazione non pensavo all'agricoltura conservativa. È stata dopo una conseguenza durante gli anni, vedere cosa succedeva in questi campi, abbiamo capito che era del tutto inutile lavorare i terreni, perché si riusciva a produrre di più con quel sistema qui. Mentre normalmente l'agricoltura conservativa ha un leggero calo di produzione quando si inizia, con questo sistema qui abbiamo avuto delle risposte sorprendenti. Fammi capire meglio, perché tu sei partito da una esigenza di irrigazione. Sì, io sono partito, essendo una persona che vive in mezzo ai campi, che comunque è una vita che sono dedicato all'agricoltura, mi ha sempre dato tremendamente fastidio vedere quelle quantità d'acqua che si riversavano sui terreni con quelle tonnellate d'acqua, pensando che non era proprio forse il modo ottimale per l'irrigazione. Quindi ho cominciato a guardarmi attorno, ho cominciato a interessarmi agli impianti di irrigazione a goccia, che devo dire mi piacevano perché comunque la quantità di acqua data e erogata era decisamente inferiore, che era il pestido del terreno inferiore, però quello che era un grosso end di questo tipo di sistema era il grosso costo della manodopera, togliere e mettere questo impianto, perché comunque non so se li hai mai visti, sono dei tubicini posati sul terreno che tutti gli anni devi mettere e togliere e recuperare. Sopra il terreno? Sopra il terreno e poi questi tubicini qui naturalmente li devi smaltire, è plastica che va smaltita. E quindi da lì è nata l'esigenza di capire ma perché non sfruttare un elemento naturale che abbiamo, cioè che è la capillarità del terreno. E quindi ho cominciato a pensare di provare a fare degli esperimenti, a metterli sotto in una profondità abbastanza importante che non possa essere danneggiata dall'aratro o dagli elementi di lavorazione del terreno. E così ho cominciato con un piccolo esperimento a una profondità di 45 centimetri. Così in modo empirico ho messo giù dei tubi, devo dire che il primo anno è stato disastroso perché comunque ho usato delle tecniche non proprio appropriate per la posa e quindi... Però la cosa mi era piaciuta e da lì ho cominciato a interessarmi. Nel frattempo ho scoperto che negli Stati Uniti qualcosa del genere era già stato fatto, ho organizzato un viaggio in Colorado e lì ho cominciato a vedere che effettivamente la cosa poteva funzionare veramente. Anche là erano abbastanza all'inizio e la cosa mi è piaciuta, sono andato a casa e mi sono attrezzato e ho fatto questi due campi. Li ho fatti con il sistema GPS, tutti i tubi sono posizionati a 45 centimetri di profondità, con il sistema GPS, quindi perfettamente rintracciabili un domani. E lì negli Stati Uniti l'esperienza era di mettere un tubo ogni 1,50 m. Devo dire che il primo campo che abbiamo fatto, che dopo vediamo, io avevo già stretto perché non mi piaceva la cosa, l'avevo portato a 1,20 m di interfila. Poi dopo l'anno successivo ne ho rifatto un altro che sarebbe questo dove siamo e qui invece ho proprio fatto la disposizione dell'impianto a 70 centimetri come è la semina del mais. Quindi io ho la mappatura del posizionamento dell'impianto e ci vado a seminare sopra ogni anno. Fammi capire Giorgio, quindi vuol dire che questo mais qui è seminato a 70 centimetri. Io il mais a Cremona ci semina a 70 perché abbiamo fatto un impianto a mantua e a mantua a 75 e abbiamo portato la distanza a 75. E sopra, anzi sotto il seme... A profondità di 45 centimetri io ho questo tubicino diametro 22 che eroga dell'acqua e sopra ogni tubicino ci vado a seminare. Quindi Giorgio hai dato dei concetti importanti. Innanzitutto, hai parlato di risalita capillare. Vuol dire che quando tu hai messo sotto la manichetta a 45 centimetri, hai detto? Sì. A 45 centimetri. E quanti anni ci resta sotto la manichetta? Guarda, dall'esperienza che abbiamo maturato in questi anni qui, secondo me sono impianti che non conosciamo la durata ma parecchi e parecchi anni. Anche perché con questo sistema si usa poi un contalitri per verificare la portata dell'acqua. Quindi questo contalitri qui ti dice anche se l'impianto è in perfette condizioni. Io so che devo dare tot metri cubi per ettaro, io in base, in un tot determinato di tempo, io so che se la distribuzione è corretta, so che l'impianto è perfetto. Se comincio a vedere che vedo delle cali di portata in quel tempo lì, vuol dire che qualche domanda me la devo porre. Però ho trovato che sono cinque anni e non ho un minimo calo. Poi lo si vede anche nell'uniformità della cultura, cioè non c'è una pianta diversa all'altra, perché comunque sono alimentate con l'acqua tutti nello stesso modo. E ascolta, per capillarità l'acqua risale? Sì. E copre quanti centimetri per parte sulla fila? Ti devo dire che tutti gli anni migliora, proprio perché è il discorso del sodo, quindi tutti gli anni migliora e tu vedi che la capillarità aumenta sempre di più ogni anno. Ed è uno spettacolo. Tu irrighi, dopo un'ora che stai irrigando, vedi già l'acqua in prossimità della fila, perché proprio lì sotto c'è l'erogatore, vedi l'acqua che comincia a numidire il terreno. Quindi potremmo dire che hai fatto un miglioramento fondiario duplice. Uno, perché hai creato una rete di irrigazione fissa sotterranea che non ti interaggia per operazioni. Ma il sodo, vuol dire che tu raccogli la granella e tutto il resto lo lasci sul terreno come restituzione, l'incremento della sostanza organica ti migliora anno dopo anno il terreno e non può che migliorare. Assolutamente sì, ci sono gli studi ormai su questo, ma questo sistema qui aiuta molto l'agricoltura conservativa, perché non c'è più bisogno. Quando ti parlavo all'inizio dell'agricoltura conservativa può portare a un leggero caldo di produzione, qui non l'abbiamo visto, qui abbiamo sempre visto degli incrementi di produzione. Quanti interventi irrigui fai in subirrigazione? Dipende dalla stagione, però normalmente fai circa 14-15 interventi, perché oltretutto rispetto a quella superficiale, della lagoccionante superficiale di cui parlavo prima, qui c'è il vantaggio che non abbiamo evaporazione, per cui tutta l'acqua che dai, poi specialmente in questa fase, te la porta via la pianta. Acqua e poi non solo, ti puoi permettere di mettere dentro dell'azoto frazionandolo nel tempo, perché il grosso vantaggio di questo sistema è che tu non devi dare l'azoto in un colpo solo, a parte che riduci i quantitativi, ma poi lo dai frazionato in continuo, per cui tu accompagni la pianta fino al momento della fioritura e lì se vuoi puoi anche aumentare i quantitativi. Questo tipo di sistema, con questa irrigazione, ti puoi permettere di infittire. Normalmente si semina circa 7 piante al metro quadro, 7 e mezza, secondo poi delle varietà. In questo caso qui noi li abbiamo portati a 10, perché il sistema lo sopporta. Anzi, con questo sistema puoi incrementare l'investimento e non solo, in questo modo incrementi anche le produzioni. Fuori dubbio perché non vedo una foglia cartocciata, per cui le piante sono veramente in condizioni eccellenti. Ascolta Giorgio, domanda di rito. Qui tu hai fatto una sperimentazione, ma una sperimentazione agronomica, se sei un imprenditore, avrei fatto due conti. Cosa mi dici sui costi e sui ritorni economici? Diciamo che si sommano le due, si sommano intanto i vantaggi dell'agricoltura blu, che come sappiamo riduciamo enormemente i costi. Dalle lavorazioni, riduciamo i costi, riduciamo la quantità di azoto, riduciamo tutte le lavorazioni che ci sono, primo punto. Con questo sistema riduciamo anche i costi di irrigazione, perché qui c'è un sistema, che dopo vediamo, dove praticamente l'acqua, per conto suo, ha bassissima pressione, perché qui viaggiamo un'atmosfera di pressione, quindi con pochissima energia mandiamo l'acqua. Mandiamo l'acqua e le sostanze nutrienti, perché ricordiamoci che in questa fase noi stiamo già anche dando dell'azoto. Azoto che non è azoto chimico, ma è azoto di derivazione dai reflui azotenici, perché qui abbiamo preso quelli che sono il refluo degli impianti di biogas, viene trattato, viene fatto in colonna di strippaggio e otteniamo un sulfato ammonico a bassa percentuale di azoto. In acqua. In acqua, che noi mandiamo dentro e concimiamo praticamente con un fertilizzante, non dico naturale, perché si usa, però comunque il più vicino possibile, il grosso vantaggio di quel sistema qui è che noi non mandiamo niente in falda, perché sono due anni che facciamo una ricerca con l'Università di Milano, abbiamo giù delle sonde e regolarmente vediamo che in falda non mandiamo niente. Non solo in falda, non solo in falda, c'è di più. Noi non mandiamo neanche nell'atmosfera dell'azoto, perché tu sai benissimo che quando fai le concimazioni superficiali e anche la rincalzatura, quell'azoto lì in parte va in atmosfera, con quel sistema qui non va niente in atmosfera. Allora, proviamo a dettagliare. Allora, abbiamo il terreno che per capillarità porta l'acqua e porta il soffato ammonico che è diluito nell'acqua. Esatto. E questo, con la restituzione di tutta la biomassa che viene macinata e siderata autonomamente, è sufficiente per la crescita di queste belle piante di mais. Ci siamo? D'accordo? Quindi in un certo senso è un ciclo chiuso. Certo. D'accordo bene? Ma abbiamo di più. Abbiamo zero di lavamento superficiale da irrigazione a scorrimento o a pioggia e abbiamo zero di lavamento in falda dell'azoto, perché comunque l'azoto viene dato secondo le necessità che servono per la pianta. Certo. Ci siamo? Certo. Ed in continuo. Questi sono due vantaggi direi assolutamente strabilianti. la qualità della granella, cioè il fatto che tu non bagni la pianta, perché le piante si bagnano soltanto se piove, ma tu ordinariamente, d'accordo, d'estate non bagni le piante. Noi non bagniamo le piante, non solo. Non bagniamo neanche il suolo. Come miglioramento? Non solo, non bagniamo neanche il suolo. Certamente. Che miglioramento ti aspetti per la granella? Noi abbiamo visto già dei risultati. Come è noto, per esempio per le aflatossine, una causa è sicuramente la cattiva irrigazione, cioè piante che vanno in stress. Con quel sistema qui di piante in stress non ce ne vanno. Quindi già quella è una causa scatenante e comunque che viene eliminata. E in questo caso qui poi pensiamo di avere dei vantaggi anche su tutte le altre tossine. Sicuramente la granella è una granella perfetta, perché è comunque una granella che è alimentata in modo corretto. Quindi mi aspetto, noi più applicato qui c'è anche un molino, quindi sappiamo quello che succede dopo nella fase di macinazione. E quindi devo dire che ci sono degli ottimi risultati. Prospettive future, secondo te, un terreno che è sicuramente ambientalmente migliorato, perché lo lasciamo in pace, si accumula la sostanza organica, si ritornano i lombrichi, la fauna è d'afica, non si compatta, non abbiamo l'inscivazione e questo sottoterra ci siamo. È una scelta ambientalmente assolutamente migliorativa e sostenibile. Sopra, la diminuzione di funghi perché non vai a bagnare la pianta. Per te ci sono i numeri per un marchio, per una granella di qualità? No, non ho l'esperienza a sufficienza perché poi gli anni sono cinque, quindi abbiamo visto dei miglioramenti e secondo me in futuro sicuramente qui avremo una coltivazione ecocompatibile con il sistema, perché qui comunque noi risparmiamo con questo tipo di coltivazione, in questo campo, il 50% di carbonio rispetto a tutte le altre coltivazioni di mais fatte qui in zona. Quindi già questo ti dà l'idea di un prodotto fatto rispettando l'ambiente. Non solo, io mi aspetto dei risultati anche in termini qualitativi, oltre che quantitativi che quelli li abbiamo già visti. Giorgio, quando pensi di raccogliere questo mais, cosa succede alla raccolta rispetto ad una coltivazione senza la subirrigazione e come gestisci poi il periodo fino alle semine successive? Per quanto riguarda la raccolta, pensiamo che arrivi comunque insieme agli altri, cioè non ci sono differenze. Con la differenza che arrivi però al momento del raccolto con una pianta perfettamente sana e verde, a differenza delle altre, insomma delle altre coltivazioni, perché questa qui è alimentata in continuo, alimentata e dato il giusto porto di fertilizzante, quindi sicuramente arrivi con una pianta più stabile. Teniamo presente che poi qui, con quel sistema qui, la pianta va verso l'acqua, quindi l'apparato radicale, tu se dovessi scavare qui, vedi un apparato radicale che va in fondo, che va perfettamente perpendicolare alla pianta. Perché? Perché con quel sistema qui rendo il terreno morbido, esplora di più, va a cercare più elementi e tutto il resto. Dopo per quanto riguarda la raccolta, il dubbio che avevamo ancora anni fa era quello di dire ma insomma con l'impianto sotto non sappiamo il calpestito del terreno, invece il risultato è che porta molto di più degli altri terreni, perché le radici in decomposizione dell'anno prima creano uno strato di supporto, il fatto di non lavorarlo, poi il fatto dell'acqua da sotto che per capillarità va a chiudere gli spazi vuoti del terreno, va soltanto a chiudere gli spazi vuoti e risale. Quindi il tuo terreno è una fine, una portanza, noi qui stiamo irrigando adesso, dopo ti faccio vedere, ma comunque sei dentro e tu non te ne accorgi, non te ne accorgi perché comunque l'acqua si comporta in modo diverso rispetto a tutti gli altri sistemi di irrigazione.